A Bemus, nuova giunta comunale dell'Aquila. La nuova fase dell'amministrazione Biondi è pronta a partire. Potrebbe essere ufficializzata entro martedì, al massimo mercoledì della prossima settimana, la nuova squadra del governo cittadino dopo la crisi di maggioranza che ha indotto il sindaco Pierluigi Biondi a rassegnare le sue dimissioni una settimana fa. Dimissioni, ricordiamolo, dettate da una duplice motivazione, la scazza aderenza delle forze politiche di maggioranza e l'assenza e il silenzio del governo giallo-verde e le richieste dell'Aquila, in primis sullo stanziamento dei 10 milioni di euro necessari per salvare il bilancio del comune. Le risorse dovrebbero essere stanziate nel decreto Etna, appunto, tra martedì e mercoledì. Giunta congelata, dunque, fino a quando il decreto non sarà pubblicato. Dunque, nella nuova giunta Biondi ci saranno 5 uomini e 4 donne, mantenuti gli equilibri richiesti dalle forze e dai gruppi politici. Alla Lega due uomini, Daniele Ferella e Fabrizio Taranta, un uomo e una donna in rappresentanza del gruppo Insieme per l'Aquila. La scelta dovrà accadere tra Roberto Junior Silberi e Vito Colonna per quanto riguarda l'assessore uomo, che dovrà ereditare le opere pubbliche. Manca da individuare la donna che siederà in giunta per Insieme per l'Aquila. Sarà tuttavia una figura esterna. I consiglieri hanno presentato una rosa di nomi tra cui attingere. Due donne anche per Fratelli d'Italia, Carla Mannetti e Monica Petrella. Un uomo per l'Aquila Futura, Francesco Bignotti, e un uomo anche per Udc benvenuto presente, Raffaele Daniele, che resterà vice sindaco e manterrà il bilancio, ma deve lasciare la ricostruzione pubblica e le opere pubbliche. Una donna esterna andrà a occupare il posto in giunta riservato a Forza Italia. Il nome potrebbe essere quello di Fausta Bergamotto. Il nome potrebbe essere il posto in giunta riservato a Forza Italia.